ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial siamo su vegas pro 14 alla ricerca della perfezione dei nostri video con trucchi segreti scocciatoie insomma non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito a selezionare prendere un video e trascinarlo all'interno del nostro sony vegas qui clicchiamo yes e quindi abbiamo il nostro video di qualità in questo in questo riquadro vediamo appunto l'anteprima del video in questo riquadro invece possiamo vedere direttamente cliccando su gli effetti le varie tipologie di ogni effetto che a visitare meglio dopo questa qui è la nostra timeline ovvero dove possiamo vedere e lo scorrimento del video e posizionarlo trascinarlo tagliarlo qui invece abbiamo il nostro audio e qui abbiamo altre possibilità di aggiungere delle timeline per audio o per video in questo caso questo è un video dove noi vogliamo aggiungerci della musica dopo quindi andiamo qui tasto destro insert audio track altrimenti insert video track se vogliamo metterci degli effetti o qualcos'altro in questo caso insert audio track in modo che ci aggiunge una timeline per l'audio possiamo ovviamente spostare il tutto come ci pare con lo zoom della rosellina possiamo andare indietro e vedere tutti i 10 minuti del video altrimenti andiamo un po più nel dettaglio e andiamoci a curare secondo per secondo altra particolarità importante da sapere è la trasparenza del video qui possiamo diminuire la luminosità ma che in realtà è la trasparenza e qui invece il volume ok abbassiamo di tot decibel la nostra traccia audio vogliamo mettere quindi una musica andiamo su file importa media andiamo sul nostro desktop la cartella dove abbiamo le canzoni e scegliamo una canzone apri questa qui è la schermata dove ci compaiono i nostri file clicchiamo trasciniamo il nostro audio lo mettiamo sulla timeline possiamo crearne anche altre volendo trascinando fuori la mettiamo dentro il clic e abbiamo il nostro video con l'audio sotto con la musichetta che scorre bene procediamo quindi a tagliare il video che adesso vi farò vedere come farlo con la lettera s applichiamo un taglio a tutto ovvero sia alla traccia audio sia alla traccia video per traccia video si intende sia il video sia anche l'audio appartenente al video per scollare queste due questo video e questo audio si preme la lettera u si seleziona innanzitutto il video si preme la lettera u ed ecco qui che possiamo tagliare in disparte cliccando sulla traccia audio solamente l'audio e non il video cosa che prima non succedeva se noi non premiamo u selezioniamo il nostro video premiamo s e ci taglia anche l'audio relativo al video ok questo è quanto riguarda i tagli con la s tenendoci sull'oggetto che vogliamo tagliare altrimenti clicchiamo esternamente come vedete non è selezionato niente con la s tagliamo tutto quello presente sulla timeline in questo punto preciso mettiamo che adesso io seleziono questa traccia tenendo shift premuto seleziono anche questa poi anche questa premo cance che non mi servono decido che non mi servono e quindi trasporto tutto verso la fine finché non si blocca ovvero dal minuto zero quindi nostro video parte così la canzone ovviamente troppo alta cosa andiamo a fare la abbassiamo totalmente sbagliato questo è un errore che si fa non si deve abbassare tutto quanta perché semplicemente il motivo qual è se io ho dei momenti importanti dove però sto in silenzio la musica va alzata non posso mantenerla abbassa a livello di quanto parlo quindi si va qui si clicca su touch in modo che si può modificare secondo per secondo il volume del dell'audio bene quindi partiamo da zero diciamo di abbassarlo molto andiamo un po più avanti qui vediamo che ci siamo zitti in questo da qui a qui è presente un momento in cui stiamo zitti voglio aumentare leggermente la musica bene clicco faccio un clic solo senza spostare in modo che mi mette un un marcatore arrivo qui vi faccio un altro click qui un altro click qui un altro click ora che abbiamo questo segmento isolato possiamo alzarlo di livello questo segmento blu non è altro che il volume della nostra traccia audio qui quindi è piuttosto bassa circa un quarto dell'originale qui si alza qui si riabbassa quindi avremo questa differenza di volume ok qui ovviamente parliamo non si sente quindi riabbassiamo ancora più totalmente vediamo vediamo quindi che il segmento dell'audio che abbiamo alzato della parte di audio che abbiamo alzato è diverso è scollato dal dal segmento invece della dell'audio di tutta la musica possiamo fare quindi delle sfumature più o meno leggere ovviamente così da piuttosto fastidio perché si sente la musica che si abbassa all'improvviso stessa cosa possiamo applicarla stesso principio possiamo applicarlo al livello nella traccia audio collegata al video ok clicchiamo quindi su touch e possiamo quindi modificare il livello audio stessa identica cosa ce l'abbiamo anche qui sotto center che cosa significa center se noi ci clicchiamo attiviamo quindi la modifica e questo è posizione sul center significa che l'audio è riprodotto alla stessa maniera sia nella cuffia destra o nella cassa destra sia nella cuffia sinistra che nella cassa sinistra se vogliamo invece che magari un effetto sonoro stiamo facendo un corto petraggio vogliamo un effetto sonoro che ci dia più tridimensionalità andiamo spostiamo e diciamo che il volume lo vogliamo solo sulla cassa destra molto bene quindi abbiamo capito un po i principi che adesso io vi sto spiegando facendo degli esempi molto stupidi banali ma ovviamente ognuno li applica come meglio crede anche nella traccia video possiamo gestirci premendo S magari vogliamo fare una sfumatura ecco qui cliccando sull'angolo qui possiamo tagliare allungare cliccando sull'angolo possiamo dare togliere la trasparenza come vediamo quindi adesso abbiamo fatto adesso abbasso tutto il volume perché non ci serve niente poi possiamo tranquillamente rialzare ok anche qui rialzare come vediamo abbiamo una trasparenza che va in abbassamento insieme a qualche effetto sonoro potrebbe essere una cosa una cosa pericolosa comunque un video editing particolare non ci piace questa tipologia di sfumatura perché troppo va troppo piano perfetto la abbassiamo la avviciniamo in modo che la trazione avviene più velocemente o la allunghiamo in modo che avviene ancora più lentamente non ci piace questo andamento perfetto tasto destro fade type e qui abbiamo varie opzioni questa è la diagonale semplice questa invece è una tranzione che si fa a sfumare verso il nero semplicemente alla fine qui fa una pausa in mezzo qui anche una pausa in mezzo qui invece subito all'inizio dallo stacco e poi dopo piano piano diventa sempre più nero e qui la diagonale quindi abbiamo capito il principio anche della sfumatura della della sfumatura questa sfumatura classica metto perfetto ora andiamo a capire anche un po' di simboli che sono qui sotto che durante il video editing ci potrebbero fare molto comodo io ho una traccia audio dove spesso mi interrompo nel parlare e ovviamente sono parti che nel mio video editing vanno tolte ok nessun problema tengo selezionata la traccia da tagliare e inizio a fare questo lavoretto premo s premo s premo s premo s premo s premo s e premo s insomma a fine video abbiamo tante tracce piccoline che vanno tolte quindi io procedo clicco canc clicco canc qual è la cosa fastidiosa che io devo poi trascinare questo qui questo qui questo qui ed è una cosa veramente pallosa perché spesso si vanno a tagliare anche le piccole parti dove dove si sta zitti quindi diventa veramente faticoso ogni volta spostare questo è un comando che se lo spuntiamo ok ora è attivato attenzione perché possiamo tagliare tranquillamente premere canc e vedete riempie subito il buco è buona anche come cosa perché zoom un po indietro se sposto questa qui verso destra mi sposta tutto stessa cosa se lo sposto verso sinistra mi prende tutto c'è una sorta di magnete ok che mi tiene tutto unito attenzione ricordatevi di disattivarlo quando non mi serve perché fate casino una cosa simile ce l'abbiamo anche nella finestra dove possiamo cambiare la visualizzazione clicchiamo quindi su il simbolino di sinistra della nostra traccia ci appare insomma questo questa schermata dove possiamo andare avanti e indietro e modificare attenzione la visualizzazione come vedete dall'anteprima del video stiamo rendendo più piccolo stiamo rendendo possiamo fare uno zoom dove magari ci piace ok ecco questo è un capitolo un po più grande come fa in Vegas 14 sono un po cambiate le cose io adesso posso spostarlo solo sopra e sotto cliccando qui posso spostarlo dove mi pare cliccando qui solo a destra e a sinistra bene io ora metto tutto quanto lo allungo voglio fare uno zoom che però vada piuttosto lento quindi lo metto di nuovo in default ok voglio fare voglio che dopo tot secondi ci sia uno zoom quindi qui vediamo nella timeline della posizione questo segnalino che noi possiamo spostare e che sarebbe proprio la visualizzazione che noi abbiamo quindi se io questo qui lo metto all'inizio dico al programma che all'inizio io voglio questa tipologia di visualizzazione a schermo intero io voglio dire però che dopo un po di tempo e decido io quanto voglio aggiungere un altro segnalino però questo segnalino e io adesso lo devo selezionare voglio che mi faccia fare uno zoom qui quindi cosa avverrà ora? guardate ci sarà uno zoom durante la clip quindi vediamo all'inizio ok abbiamo quindi lo zoom possiamo farlo anche inversamente possiamo anche girare quindi noi ok clicchiamo qui lo selezioniamo io diciamo che io voglio lo zoom ma voglio anche girarlo quindi succederà questo insomma io vi do le basi voi dovete mettere la creatività andiamo a migliorare il nostro video togliendo questi brutti frame dove noi siamo in movimento e ovviamente ci risultano le parti del corpo sfocate clicchiamo il tasto destro e andiamo su proprietà bene il programma automaticamente ci spunta questa opzione di usare il classico metodo del video ovvero se noi registriamo a 60 fps ovvero 60 immagini per ogni secondo il video rimane così io dico invece di disabilitarla questa creazione di immagini e avremo molto meno sfocato nelle parti in cui ci muoviamo guardiamo qui per esempio solo se faccio di bruschi movimenti non sono a fuoco cosa che prima invece non succedeva prima anche se mi muovevo un po' ero sfocato bene questo è un grande miglioramento che va però applicato attenzione va applicato a tutte le clip di proprietà se per esempio come fare per evitare una volta che abbiamo tagliato lo fate all'inizio voi all'inizio dovete fare subito questa questa questo procedimento bene inoltre possiamo notare che se diamo più importanza alla timeline perché magari abbiamo tantissimi effetti possiamo allungarla altrimenti se abbiamo semplicemente queste tre cose possiamo diminuire e concentrarci di più sull'aspetto del video e insomma queste sono le basi che abbiamo a disposizione per creare dei bei video farò magari altri tutorial un po' ditemi voi cosa trattare perché sony vegas è un programma molto molto vasto e non è nemmeno facile da utilizzare se non si conosce le sue potenzialità ecco si possono creare grandi video grandi effetti ma bisogna saperlo conoscere abbastanza tramite i tutorial questo è possibile chiaramente e quindi io mi metto a disposizione ripeto sono pronto per dare spiegazioni approfondite anche su argomenti che volete conoscere per esempio l'applicazione del screen o ancora più in dettaglio insomma ditemi voi guardate un attimo il mio canale mi dite Davide ma come fai? come hai fatto a fare quell'effetto quando nel minuto 3 del tuo video ping pong? ok? intanto vi chiudo per questo video è tutto spero vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video